salve a tutti finalmente siamo siamo in diretta ovviamente vi chiedo di darmi un feedback se si riesce a sentire o vedere bene insomma nel frattempo vedo anche di collegarmi tramite il computer di condividere questo video cosa che invito a fare a fare anche voi insomma speriamo che si veda bene dirette sono sempre un po un po difficili diciamo così e spero di leggere anche i vostri commenti oggi parleremo del metodo di studio però ho bisogno di sapere da voi se si sente e se si vede bene più che altro e allora come vi dicevo ieri sera ieri sera abbiamo fatto appunto un video su questo su questo aspetto come vi dicevo ieri sera parleremo un po che l'obiettivo è quello di comprendere meglio le difficoltà relative al al metodo di studio e di vedere anche qualche soluzione adesso per chi di voi già utilizza ok ci sono sto vedendo anche qui il tutto condivido questo video anche sul mio profilo invito a farlo pure voi se siete interessati insomma questo argomento potrebbero esserne interessati anche altri altri genitori insomma quindi sul tuo diario ok questi sono tutti gli argomenti che avremmo intenzione di parlare sono davvero molti e spero di trovare anche anche da voi delle come dire delle risposte piccola nota spero anche che la connessione possa possa andare bene quindi non ci siano interruzioni per chi di voi ha il libro nostro figlio dislessico se lo mette di lato oppure se avete intenzione di prenderlo o già l'avete segnatevi le pagine perché citerò anche delle pagine tratte dal libro nostro figlio dislessico ho letto tanti tanti dubbi in questi giorni ho chiesto altre domande nei commenti e vediamo insomma quello che è venuto fuori nel frattempo vi ricordo anche che parliamo del metodo di studio dei ragazzini con dislessia quindi come voi studiate con i vostri figli e soprattutto il mio interesse comprendere bene quali sono i vostri dubbi dunque nei commenti in basso che mi invito a commentare se si sente o se si vede bene ditemi anche che tipo di difficoltà riscontrate quando studiate con vostro figlio ambito dislessia nell'arco di quest'anno toccheremo anche gli altri ambiti disortografia disrafia discalculia al momento mi importa aiutarvi per moduli quindi metodo di studio dislessia ok nel frattempo ripeto se avete domande o meno ponetele pure tranquillamente io sto cercando di vedere da un feedback del del computer quello che abbiamo anche perché la connessione è così così quindi spero che spero che regga più che altro ok mi stanno arrivando già i primi i primi commenti ok ditemi se ditemi se sentite questa è la cosa importante ditemi semplicemente se sentite questa è la cosa che mi preme di più al momento vediamo un po anche di iniziare da qualche dubbio come far piacere lo studio mio figlio che spesso mi risponde tanto poi mi dimentico ne parleremo anche di questo però vedi lo domanda elena il problema non è tanto se piace o se non piace lo studio il problema è quello del di quanto come dire questo studio possa inizialmente essere reso facilitato nei confronti della problematica mi spiego meglio nel momento in cui vado a studiare e ho delle difficoltà oggettive è ovvio che quel tipo di studio a me non piace e non e non interessa diciamo così perché invece cosa differente è trovare delle strategie delle modalità per poter rendere più facile lo studio insomma bene direi che possiamo già iniziare con con i primi argomenti o nel frattempo sostemando il computer qui di fronte così che riesco a interagire molto meglio spero ripeto e si possa sentire e vedere bene quindi ditemi voi un po un po come il tutto va bene vediamo un po ok mi state dicendo che si sente bene io purtroppo o il grande problema che non riesco sarà a causa delle mie connessione non riesco a vedere bene i commenti in diretta però voi commentate sempre perché se non dovesse riuscire a rispondere in diretta comunque preparo delle modalità di risposte iniziamo con i primi argomenti ripeto per chi di voi ha il libro nostro figlio dislessico segnatevi le pagine per chi aveva intenzione di prenderlo insomma segnate anche voi le pagine perché farò molto riferimento al testo come supporto di aiuto insomma alla fine come ho detto anche ieri sera è un costo di 12 euro penso che per i nostri figli spegniamo molto di più non è assolutamente mia intenzione qui far girare il libro perché già gira giro effettivamente tantissimo e gira così tanto che lo utilizzo io stesso come supporto e come aiuto ok vediamo un po degli argomenti che vedremo oggi che li faccio rivedere sono un po tutti questi iniziamo subito dal il primo che ho segnato riguarda il bambino che si arrabbia con alcuni scatti di rabbia e di ira praticamente cosa ho fatto vi dico un aspetto un po di un po strategico per elaborare questa diretta ho chiesto prima a voi quali fossero tutti quanti i dubbi relativi al metodo di studio voi mi avete risposto con vi assicuro più di mille mille osservazioni queste siamo riusciti a incastonarle all'interno di un quindici una quindicina forse anche dodici forse anche meno dodici argomenti che adesso andiamo a trattare quindi ve li dico così velocemente il bambino che si arrabbia gli scatti di ira quindi vi dico gli argomenti e come li affronteremo insomma e quindi che le affronteremo il bambino che si arrabbiano con scatti di ira scarsa comprensione di cosa sia realmente l'islessia da parte di alcuni genitori che vanno ad associare in maniera errata cose che il bambino in teoria dal punto di vista dei genitori potrebbe fare ma che realmente non può fare altrimenti non avremmo un disturbo di apprendimento scarsa conoscenze di aspetti legislativi che approfondiremo il problema del rifiuto dei compiti il problema del genitore che perde la pazienza il la difficoltà nel gestire il fallimento dei figli e brutti voti la difficoltà del troppo tempo per studiare che serve troppo tempo per studiare la distrazione durante i compiti l'attenzione labile dei bambini e basta poco per distarsi enorme problema con l'attentivo che spesso gli argomenti sono affrontati con il metodo del genitore e non con il metodo dei ragazzini quindi vedremo un metodo adatto la non conoscenza dei processi di apprendimento modello di ascolto e studio nel senso che molto spesso i genitori non conoscono il discorso del suddivide di processi una cosa è comprendere ascoltando una cosa e migliorare potenziando la lettura i propri compiti ricordare ciò che si studia quindi vedremo tre strategie sul metodo sulla memorizzazione e lo scarso rispetto del pdp insomma altre cose che non vi dico adesso e poi il problema del del mantenere la calma abbiamo detto ma cioè mantenere la calma scassa concentrazione e iniziare i compiti è il dato topic del di quello che che vediamo insomma so che sarò ripetitivo per e perché molti non mi non seguono la diretta maniera contemporanea o appunto diretta diciamo così nel frattempo non ci risponde a qualche domanda prima di iniziare gli argomenti quindi faccio un argomento domande ricordo alcune cose ma dal momento successivo vi ricordo che questo video se riusciamo ad arrivare a ad un bel numero di condivisioni lo lasciamo online anche perché si vuole staccare adesso una diretta quindi se vi staccate la diretta condividete il video cosicché più siamo e più è probabile che possa restare online in video perché se siamo in pochi non vale la pena di intasare lo spazio se evidentemente il video non è interessante vediamo qualche domanda Alessandra chiede il libro racconta anche di israfia sia Alessandra parliamo anche di israfia ci sono tante domande marina carta mio figlio di nove anni sia con terapia per i compiti un buon approccio lui devo dire che mi aiuta tantissimo non è sempre rose e fiori ok la scuola deve capire sì le solite difficoltà vediamo in realtà attraverso questi argomenti che abbiamo di fronte 1 il bambino che si arrabbia con alcuni scatti di rabbia e dirà nel libro nostro figlio dislessico l'ho tratto questo a pagina 25 vi leggo la parte così che io stesso mi aiuto e parlo così con voi a pagina 25 libro nostro figlio dislessico si parla delle diverse reazioni emotive ne parliamo adesso il bambino vi leggo una parte e poi ve la discuto quindi ognuno di noi reagisce a una situazione in maniera del tutto personale i bambini non fanno eccezione in generale però esistono varie modalità di risposte vediamo le principali per intenderci ok allora le principali modalità risposte possono essere risposta evitante e il bambino che evita in qualsiasi maniera il compito ma non voglio andare a scuola non voglio fare i compiti non voglio fare questo non mi va non mi interessa e tutto il resto poi c'è la risposta la risposta anche la risposta passiva adesso mettendo in ordine poi c'è la risposta passiva che tende a manifestarsi con comportamenti del bambino di indifferenza si faccio i compiti ma non mi interessa si facciamo questo metodo ma non mi interessa facciamo questa strategia ma non mi interessa insomma dopodiché c'è anche la risposta attiva o passiva nel senso che la loro difficoltà la vedono scusate attiva o positiva che i bambini vedono la difficoltà la loro difficoltà la percepiscono e soprattutto è uno stimolo per loro per poter per poter fare ancora meglio e poi c'è la risposta aggressiva sicuramente quando voi vostri figli dite alle 15 iniziamo a fare i compiti dobbiamo finire entro le 18 e così via sono tutte risposte che non vanno bene per i bambini che già hanno un temperamento anche un po positivo magari quindi evitiamo di dare queste direttive in maniera così forte cerchiamo di focalizzarci più che altro sul sull'aspetto legato al dare indicazioni sull'aspetto legato al spiegare prima quello che andremo a fare è soprattutto attivando un sistema motivazionale che vedremo proprio proprio anche in questa diretta più avanti o fra poco vi vi parlo nel frattempo del del prossimo punto quindi l'aspetto relativo al bambino che si arrabbia lo trattiamo a pagina 25 poi scarsa comprensione che condizioni se certe cose non si riescono a fare e che non dipendono dalla motivazione figli certe cose che certe difficoltà nei vostri figli non dipendono dalla loro motivazione ma riguarda appunto il disturbo specifico di apprendimento io so benissimo che molti genitori sono informati tramite internet si sono anche confrontati con specialisti colleghi e così via vorrei dare un valore aggiunto a questo nel libro tratto a pagina 37 ci andiamo subito dove vado a spiegare in maniera molto semplice che cos'è un disturbo specifico di apprendimento più che altro cos'è la dislessia e vorrei leggervi semplicemente una parte a pagina 37 e spiego tutti quanti i dsa nel dettaglio nell'area dislessia indico che osserviamo una lettura molto lenta e o con errori quindi la dislessia è un disturbo nell'automatizzazione funzionale dell'abilità di lettura decifrativa lettura di testi o parola d'alta voce tale mancanza di automatizzazione si può osservare sia in un'eccessiva lentezza nella lettura che in un abbondante numero di errori di lettura di natura visiva fonologico lessicale e così via questo cosa vuol dire questo vuol dire che è errato dire che il bambino con dislessia è il bambino che legge male e commette errori quando legge perché lo è anche il bambino con ritardo mentale lo è anche il bambino che non viene eseguito lo anche il bambino che vede male lo anche il bambino con problemi psicologiche travi mentre invece il bambino con dislessia queste caratteristiche non ce le ha il bambino con dislessia qui dalla norma in su ci vede ci sente bene non ha problematiche psicologiche travi beh viene ben seguito nonostante ciò legge male scrive male dunque ciò è dovuto al fatto che il bambino ha delle come abbiamo appunto detto ha delle forti difficoltà nell'automatizzazione dell'abilità di lettura rileggo la frase tecnica un disturbo nell'automatizzazione funzionale dell'abilità di lettura decifrativa questo vuol dire che nel momento in cui non riesco proprio ad apprendere il modulo specifico per cosa si chiama disturbo specifico dell'apprendimento lo possiamo chiamare neurodiversità caratteristica l'aspetto legato alla lettura tutto quello che è rotto attorno alla lettura chiaramente delle carenze questo non dipende da vostro figlio per chi è insegnante questo non dipende dai vostri alunni quindi l'aspetto motivazione del tipo ebbe e perché non si impegna in certi aspetti legati magari anche alla memorizzazione di alcuni concetti non è così vi faccio un altro esempio i bambini che hanno difficoltà nella lettura di questo tipo quindi bambini dislessi hanno anche difficoltà a livello di memorizzazione vedremo meglio dopo cosa vuol dire memoria la cosa importante è che la memorizzazione bambini con dislessia non è in tutta la memoria perché nelle cose in cui loro vogliono se le ricordano benissimo il problema sta a livello di memoria lessicale o memoria fonologica in tutto il resto possono e molto spesso chiaramente vanno vanno bene quindi ci sono situazioni di studio in cui i vostri figli non è perché non essi non vogliono ma perché proprio oggettivamente non riescono e siamo qui apposta per trovare le strategie alternative a questo tipo di difficoltà bene prima di passare all'altro argomento vorrei vorrei dirvi uno che tutte queste argomentazioni sono contenute nel sito che ho trovato per voi dove vado a mettere il suo bianco sindicazioni giallucalopresti punto net altra cosa ancora è quella di mettere mi piace a questo video se lo state ritenendo utile e se utile per voi potrebbe essere utile anche per altri altri genitori dunque condividete in basso trovate il tasto condividi se avete il libro non soffrire dislessico cercate di cercate di segnarvi le pagine dove trovate questo tipo di indicazioni gli argomenti sono ancora tanti quindi speriamo di farcela nel frattempo guardo la scritta chissà dovessi dimenticare qualcosa e sperando che non termini la la connessione leggo i commenti prima di andare al prossimo al prossimo argomento si stanca facilmente vorrei invitare qualche prof per non è un problema a casa ma a scuola ancora peggio è positivo per fare i compiti con una compagna di classe bella questa domanda alessandra chiede è positivo per fare i compiti affiancarlo ad una compagna di classe sinceramente ho provato solo una volta il risultato è stato il pianto di mia figlia che notava le differenze questo è un rischio vedi alessandra come per tutti i genitori dipende dal vostro figlio ci sono ragazzini che questa difficoltà l'affrontano più serenamente possiamo metterli a fianco dei compagnetti che però considerando anche il fatto che questi compagnetti debbano anche essere molto cauti sereni nello studiare utilizzare un metodo non sulla performance ma quindi a puntare al voto ma sulla sulla conoscenza del testo insomma per intenderci quindi è una cosa che si può fare ma bisogna stare molto 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 attenti per intenderci bene andiamo avanti col prossimo dubbio aspetti legislativi per chi ha il libro nostro figlio dislessico comunque segnatevelo l'ho tratto a pagina 61 63 ci vado anch'io così vediamo cosa abbiamo pagina 61 troviamo conoscere la legge 170 sui disturbi specifici dell'apprendimento farò una panoramica molto generica sulla legge 170 che fondamentalmente riguarda il diritto dei nostri figli a scuola con con dsa la legge 170 dell'8 ottobre 2010 riconosce la dislessia disidrafia disortografia e di la discalculia la quali disturbi specifici del prendimento denominati dsa leggo solamente la prossima frase e poi vado sui contenuti il diritto allo studio agli alunni con dsa è garantito anche tramite molte iniziative promosse dal miur e attraverso la realizzazione dei percorsi individualizzati nell'ambito scolastico la legge 170 è composta da nove articoli veli salto vi anzi vi leggo solamente l'articolo 2 ovvero l'articolo 2 identifica le finalità della legge tra cui il successo scolastico e la diagnosi precoce nel libro nostro figlio dislessico lo trovate a pagina 61 da pagina 61 a pagina 63 dopodiché abbiamo anche il miur col del reto ministeriale 569 del 12 luglio 2011 a pagina 8.3.1 da rigo 2 a rigo 27 troviamo le indicazioni per stilare le indicazioni cosa vuol dire che cos'è l'indicazione di cardine sul piano didattico personalizzato quindi sul pdp non è così complicato ci sono semplicemente 25 righi da leggere insomma in questo del reto ministeriale è importante una volta avere una diagnosi una certificazione la differenza è dal punto di vista normativo tecnicamente io professionalmente trovo molto più utile una diagnosi clinica sui dsa per ogni anni si è spessa lì che è una difficoltà volta per intenderci ok mi arrivano anche qui i commenti adesso perfettissimo poi ok mi stanno arrivando adesso i commenti in diretta e sono insegnanti ascolto con interesse ok buongiorno a voi andiamo avanti per un momento ho avuto difficoltà di connessione quindi ditemi se si sente se si vede ancora bene per quanto riguarda gli aspetti legislativi la cosa importante è anche quella del del presentare le diagnosi a scuola nel sito gianluca lopresti punto net ho messo un un modulo per la richiesta del piano didattico personalizzato per chi di voi volesse approfondire questo aspetto ma nel sito gianluca lopresti punto net e cerchi il modulo ma lo posterò nei prossimi giorni c'è chi mi chiede come faccio riconoscere la dislessia serve una una diagnosi una diagnosi specifica in tal senso ok vado avanti con gli altri argomenti effettivo stanno arrivando anche anche i messaggi bene vediamo un po so che si stanno avendo si sta avendo qualche difficoltà di di connessione vediamo un po quanto chiedo ok perfetto vedo che si sente si vede e si vede bene perfettissimo ok ristacco questo perché ho collegato sia il computer che il dispositivo e quindi se li collego tutti e due ho difficoltà poi nella connessione per però quando mi arriva un messaggio lo vedo lì e poi lo vedo anche qui insomma mi arriva anche un commento maria dice prego potrei scrivere un libro sulle difficoltà penso ogni genitore possa scrivere un testo in tal senso quindi siamo arrivati ad avere la diagnosi l'aspetto normativo sull'aspetto normativo dobbiamo giocarci bene questo aspetto perché nel libro nostro figlio dislessico lo troviamo a pagina da 61 63 perché è importante presentare la diagnosi e certificazione a scuola è importante in quanto attiviamo il piano di attivo personalizzato quello che consiglio ai genitori e nel momento in cui presentate la certificazione a diagnosi a scuola quella di fare una richiesta formale in cui andate a segnarvi il numero di protocollo e data perché vedete noi abbiamo a che fare con degli insegnanti che sono fantastici e collaboranti però nei momenti in cui un giorno dovessimo avere una difficoltà a livello legale quello che conta non è la parola del bravo insegnante ma sono i documenti messi messi agli atti insomma quindi presentate sempre il piano di attivo personalizzato e cercate di farvi avere la copia entro tre mesi e voi soprattutto di firmarla questo è molto molto importante nel piano di attivo personalizzato abbiamo messo modalità dispensative e modalità compensative è molto importante che voi andate a segnare quello che serve per i vostri figli nel senso che poi mi venite a dire giustamente beh non arrivo con tutti i compiti per casa perché arriviamo alla sera e ancora dobbiamo terminare ma c'è il pdp piano didattico personalizzato in cui è previsto un ridotto carico di lavoro per i bambini con dislessia segnatelo prima di firmarlo ho chiesto dell'inserimento appunto prima di firmarlo mi venite a dire mio figlio non riesce a ripetere perché non gli fanno utilizzare la mappa sempre lo stesso problema tutte queste indicazioni didattiche serve il pdp per poterle utilizzare altrimenti ne possono fare poco e nulla per quanto riguarda la scuola poi a casa come dopo scuola possiamo fare tantissimo vi assicuro che è tantissimo bene visti gli aspetti legislativi fra poco passeremo a rifiuto dei compiti sempre soliti richiami queste indicazioni le trovate nel sito gelocalopresti.net poi se questo video vi sta piacendo lo trovate utile cliccate mi piace o condividete se voi avete il libro nostro figlio dislessico cliccate il cuoricino l'emotion del cuoricino così che riesco a comprendere anche quanti di voi hanno hanno questo testo oppure scrivetemelo nei commenti se avete dubbi anche se non rileggo subito in diretta scrivetemelo anche nei commenti e poi altra cosa ancora cerco di ristabilire la connessione per vedere bene se ok vedo che arrivano i mi arrivano e mi piaceva non mi arrivano subito i commenti dai non fa nulla questo è importante quindi se avete anche voi il libro nostro figlio dislessico cliccate il cuoricino vedo di leggere i commenti che mi stanno arrivando condividere questo video se lo state trovando utile e soprattutto commentatemi con quali sono le vostre difficoltà ovvero quali sono le difficoltà che riscontrate con con i vostri figli questo è quello che mi importa principalmente silvia dice il pdp purtroppo solo sulla carta tutti gli insegnanti lo applicano ma io ti chiedo silvia ci sono messe le indicazioni utili sul sul pdp perché questo è un aspetto molto molto rilevante che vi siano messe assolutamente le indicazioni utili sul pdp nel senso che nel momento in cui ho fatto pure un video sul pdp vi invito a farlo vedere magari voglio ripostare in cui spiego all'incirca come dovrebbe essere fatto se facciamo un pdp tutto fatto con le crocette bei signori è molto probabile aspettarci dalla mia modesta esperienza e opinione un fallimento un pdp dovrebbe essere fatto con da cosa dispenso e come compenso in cui evito le crocette ma vado a ammettere come è fatto questo ci aiuta anche nel metodo di studi a casa andiamo a vedere il rifiuto dei compiti da parte dei ragazzini e condividere questo video se lo state ritenendo utile vedo che arrivano molte molte approvazioni molte mi piace non riesco a leggere commenti in diretta dunque cliccate mi piace se se il video e lo state trovando utile insomma bene rifiuto dei compiti ne parlo da pagina 87 a 91 nel libro nostro figlio dislessico infatti a pagina 87 vi è questo paragrafo che per me è molto bello ricordo che lo scrissi così di getto poi sistemato ve lo faccio vedere pure a voi vietato dire hai sbagliato vi leggo la parte introduttiva vietato dire sbagliato pagina 87 quando un bambino ci chiederà cosa ho sbagliato rispondiamo gli se invece contento delle cose giuste che hai fatto l'apprendimento è ciò che di positivo viene sottolineato bene nei momenti in cui il ragazzino ha un rifiuto dei compiti il ragionamento che dovremmo fare non è quello come faccio con attenzione alla connessione debole quindi può essere che si stacchi la connessione spero di noi in caso in caso insomma ci riconnetteremo o vedremo come fare il problema non è tanto tanto questo insomma nel rifiuto dei compiti dunque vedere come fare dopo no quando si arriva rifiuto dei compiti vuol dire che si è sbagliato qualcosa prima e dobbiamo lavorare sul prima non a livello temporale ma a livello di logica mi spiego meglio se un ragazzino rifiuto dei compiti è perché in precedenza li ha associate a qualcosa di negativo rimprovera dal genitore impegno non ratificato e obiettivi non raggiunti quindi dobbiamo cambiare questo dobbiamo smetterla con i rimproveri assoluti e passare agli rimproveri relativi nelle minate situazioni e soprattutto a rinforzare quando il ragazzino lavora bene cosa molto importante è anche l'impegno vado passo dopo passo seguendo il testo così anche io ho un ordine logico avere un testo che per l'autore stesso è di guida vuol dire che ci abbiamo lavorato benino insomma quindi pagina 87 evitato dire che è sbagliato vi leggo qualche parte affermazioni con accento negativo come c'è un errore così non si fa non va bene l'esempio che faccio è quello della gioconda e chiedo adesso a voi di elaborare una gioconda insomma un disegno ad esempio quello di Leonardo da Vinci voi ci state due ore alla fine di queste due ore quello che accade è che il vostro risultato sarà molto lontano da quel quadro e quindi avrete fallito sta a me decidere se rimproverarvi per il fallimento o ratificarvi per bene comunque ci sei stato hai impiegato due ore del tuo tempo dunque quello che accade che cos'è è quello che nel momento in cui io vi andrò a richiedere di nuovo nei prossimi giorni o domani facciamo il quadro se vi ho rimproverato per risultato il quadro non lo volete fare il bambino se invece siete stati ratificati per il tempo che ne avete speso per l'impegno che ci avete messo mi lavorate di nuovo non so se rendo l'idea insomma quindi dobbiamo quando abbiamo ragazzini che rifiutano i compiti perché li vedono in maniera negativa quei compiti non ci focalizziamo troppo sul risultato hai lavorato 20 minuti non lo considero dico solamente hai sbagliato questo non va bene questo altro non va bene è normale che poi mi vanno a rifiutare i compiti è ovvio è fisiologico sono ragazzini intelligenti è un processo naturale il fatto di rifiutare qualcosa in cui fallisco ratificateli in quello in cui va bene sia come prestazione e sia come tempo quello che dico ai genitori è quando i vostri figli hanno finito un compito innanzitutto diamogli un rinforzo positivo solamente per l'impegno che ci hanno messo perché comunque ricordiamo che hanno una difficoltà oggettiva quella che abbiamo letto prima problematiche nell'automobilizzazione della lettura quindi tutti i compiti risultano chiaramente difficoltosi ratifichiamoli su questo per prima cosa sull'impegno che ci hanno messo per intenderci poi altra parte ancora sul rifiuto dei compiti c'è se è stato particolarmente bravo perché non dirglielo appunto molto spesso ci focalizziamo su aspetti negativi vi faccio un esempio aspetti negativi insistiamo per prendere lo zaino richiami costanti per farlo stare attento sete sei esercizi non svolti questa pagina 88 del libro nostro figlio dislessico su questo però ci possono essere anche aspetti positivi ad esempio il bambino che prende lo zaino già il fatto che prenda lo zaino cominciamo a i piccoli gesti i piccoli comportamenti mettiamoli come aspetti positivi del bambino diciamogli bene sono contento che tu abbia preso lo zaino bene questa cosa l'hai fatta tu o se cominciamo a cambiare punto di vista su dieci esercizi di cui sei sbagliati non gli diciamo se li hai sbagliati gli diciamo bene 4 dei fatti giusti ora ricomincia e fanno i giusti almeno 5 già è molto molto diverso sempre a pagina 89 do qualche strategia che adesso salto sempre nel libro nostro figlio dislessico però vorrei focalizzarmi su pagina 90 dove c'è atteggiamento educativo tre cose da evitare ve le dico in generale perché il libro penso che le possa approfondire immediatamente ripeto se questo video vi sta piacendo cliccate mi piace o condividete se avete il libro nostro figlio dislessico cliccate l'emotion del cuoricino così che riesco a vedere un po' quanti siete anche perché i commenti non mi stanno più arrivando al momento se attacco anche il computer per leggere i commenti rischio di perdere la connessione dal dispositivo ci proviamo comunque così che vedo qualche commento e dopo parliamo delle tre cose da evitare come genitore nel frattempo commentatemi con i dubbi che avete sul metodo di studio mi importa raccogliere tutti i vostri dubbi tutte le vostre difficoltà con mio figlio quando studio ho questa difficoltà scrivetela desidero conoscerla nel commento ok già abbiamo raggiunto 10.000 persone ci sono 80 condivisioni condividete se il testo è utile vediamo qualche commento Katia saluta ciao Katia Giorgia Marica ti capisco come si chiama il libro Ornella Ornella il libro è nostro figlio è dislessico lo puoi trovare su internet lo puoi trovare sulla pagina lo puoi trovare nelle edizioni Ericsson spesso e per troppo protezione viene detto al bambino faccio io che non riesce non sei capace come aiutarli in positivo sai Anna Maria più che per protezione alle volte anche per sbrigarsi nei compiti ma la tecnica dei compiti ne dovremo parlare successivamente del tipo non è utile lavorare lavorare a compiti del tipo ho 10 compiti da fare e li devo risolvere e li devo affrontare e beh e se ci sto fino alla sera lavoriamo a tempo per questo abbiamo affrontato prima l'argomento del Pdp perché con un buon Pdp riusciamo riusciamo ovviamente ad affrontare bene il tutto perché abbiamo una scuola che ci aiuta e ci supporta dal punto di vista legale ok ristacco la connessione dal PC scusate dal Mac altrimenti rischio di perdere la connessione qui bene andiamo avanti vi stavo parlando delle tre cose da evitare evitare la critica come complimento ad esempio vi leggo la frase standard dal libro nostro figlio di slessico insomma bravo Andrea oggi sei stato veloce e corretto nel fare i compiti ma perché non fai sempre così perché gli altri giorni mi fai disperare riassumibile nella classica frase ma allora vedi che quando vuoi ci riesci pagina 80 pagina 90 del libro adesso questo è un rimprovero velato da da complimento evitiamolo facciamo il complimento punto punto 2 non date qualcosa di piacevole prima che si sia impegnato vi faccio l'esempio ti faccio fare pausa adesso solo se dopo fai i compiti significa trasmettergli la convinzione che se lui si lamenta ottiene il beneficio della pausa e dopo faremo i compiti lo so che dura lo so che dura lo so che dura ma alle lamentele non dobbiamo e non possiamo cederli ci siamo è molto importante invece dargli anche un minimo minimo impegno minimo ma comunque un minimo impegno da fare per poter fare pausa guarda mi basta un esercizio e facciamo pausa mi basta questo e facciamo pausa anche minimo ma l'importante è che si trasmetta la logica che attraverso l'impegno inizialmente anche minimo posso ottenere quello che voglio e non il contrario attraverso la lamentela ottengo quello che voglio vedete c'è il concetto del del pianto il pianto perché mi sono fatto male è il pianto della mentela impariamo a distinguerli ma ne parleremo nei prossimi nei prossimi live nei prossimi video bene andiamo avanti con gli altri argomenti genitore che perde la pazienza questo è molto topic come argomento che non sta calmo sbagliare con cose che sembrano ovvie bene capita a tutti di perdere la pazienza nel libro ne parlo all'incirca pagina 94 a pagina 94 vado a trovare la parte che ci interessa su questo tipo di argomentazione precisamente attraverso una collega con la quale ho chiesto una piccola scheda le risponde riconoscere la fatica e la frustrazione del bambino è che non ce la fa con voi è molto importante poter riconoscere oggettivamente che il bambino quel tipo di situazione quel tipo di difficoltà oggettivamente non riesce è realmente molto molto difficile per lui di riuscire ad affrontare determinate abilità di apprendimento questo lo sappiamo ma la domanda è lo sappiamo veramente dentro di noi ne siamo veramente consapevoli che il bambino ha delle difficoltà oggettive è una cosa che ho fatto mia nel mio cuore di mamma o nel mio cuore di papà in quanto può capitare che il fatto di riconoscere le difficoltà teoricamente ma poi dentro di me di non farle mie succede che vada a rimproverare il ragazzino per ogni singola cosa e situazioni che per me sembrano ovvie per lui realmente non lo sono situazioni che per me sono ovvie per lui non lo sono e quindi quello che accade è che il il genitore in questo caso voi vi arrabbiate per cose che sembrano ovvie si perde la pazienza il ragazzino si era bianco si arriva a un'escalazione del conflitto e non si arriva a nulla quindi il consiglio più importante che posso darvi è quello di riconoscere dentro di voi che le difficoltà del bambino sono reali e oggettive e soprattutto cercate di comprendere chiaramente che nel momento in cui il ragazzino sbaglia non è colpa sua questo è messo molto bene nel testo e soprattutto i comportamenti del ragazzino sono sempre in relazione di difficoltà che hanno quindi non non prendete un comportamento alle volte un po' sopra le righe o un po' rispettoso come irrispettoso nei vostri confronti molto spesso è un modo del ragazzino per gestire la propria difficoltà insomma quindi che magari se la prende con voi o con il compito perché oggettivamente ha uno stress che capiamo insomma deve poter affrontare bene andiamo avanti gestire il fallimento dei figli e i brutti voti ne parliamo sempre a pagina 94 pagina 94 in basso c'è questo capitolo che è un altro di quei capitoli che a me piace tantissimo ed è piaciuto tantissimo anche ad altri ad altri genitori si intitola impegni risultati e motivazione spero che si sia spero che si sia visto insomma è questo qui per intenderci vi leggo la frase se faccio del mio meglio e fallisco beh avrò fatto del mio meglio Steve Jobs vedete è un po' il concetto di impegno di cui abbiamo parlato prima quello di realizzare il quadro per intenderci il concetto che vorrei trasmettervi riassunto in un pezzo che vi sto per leggere ok attenzione a questa frase è un pezzo un po' lunghetto saranno una decina di righe ve lo leggo con piacere se ti impegni a scuola ti farò un regalo dunque cerca di prendere bei voti in questa affermazione molto frequente parliamo di impegno ma nella sostanza stiamo premiando il voto spesso infatti si è portati a pensare che se uno studente ottiene un attimo ok spesso siamo portati a pensare che se uno studente ottiene un bel 10 in un compito è perché si è impegnato si ottiene un 5 è perché non si è impegnato è dunque facile comprendere come l'impegno che mettiamo nel fare qualcosa e i risultati che poi otteniamo non sempre camminano insieme impegni i risultati non sempre camminano insieme questa regola falle maggiormente nei casi degli studenti con disturbi specifici di apprendimento la cui motivazione rischia di perdersi nel corso del tempo a causa dei vari fallimenti quindi è molto importante non far assolutamente correlare il voto che si ottiene all'impegno l'impegno va gratificato in una maniera il voto va gratificato in maniera totalmente differente per intenderci vediamo un po' anche il resto la cosa importante è quello che dell'impegno a scuola nel senso che nel momento in cui io dei genitore anche da insegnante riesco a come dire gratificare l'impegno che ci mette il ragazzino in un determinato compito radurò in lui una motivazione basata sull'impegno non una motivazione basata sulla prestazione sulla performance scolastica ed è una netta differenza che dal mio punto di vista fa tutta la differenza del mondo passiamo all'altro argomento troppo tempo troppo tempo per studiare troppo tempo per studiare questo lo trovate a pagina 101 in cui molti genitori mi dicono eh si impiego tutto il pomeriggio come nota vi ricordo che avete il piano didattico personalizzato che è molto importante che questo venga venga elaborato mettendo che il troppo carico di lavoro chiaramente non va bene altra cosa importante prima di passare a questo argomento vi ricordo tutti questi argomenti li trovate nel sito giallucalopresti.net cliccate mi piace se il video lo state rendendo utile e condividete se pensate insomma che possa essere utile anche per per altri per altri genitori mi sto aiutando nel frattempo con il libro non soffrire dislessico se ce l'avete pure voi cliccate su curicino cosicché riesco a leggere il tutto prima di parlare della problematica relativa al troppo tempo per studiare con la strategia del tempo vediamo se sono arrivati altri altri commenti quindi rimetto la connessione ho paura che si stacchi la connessione del dispositivo per questo la stacco dal dal mac si sta ricollegando così che riesco a vedere se ci sono dei vostri commenti nel frattempo commentatevi commentate se avete dei non tanto dei dubbi ma quali sono le vostre difficoltà quando studiare con il vostro figlio per me è molto importante sapere quali sono le vostre difficoltà commentate su questo per intenderci ok vediamo gli altri commenti il mio invece troppo poco tempo quindi lavora velocemente i maschi spesso odiano l'italiano nella storia un po' tutti dipende dalle difficoltà insomma troppo difficile parlare di ragionamenti per loro intimi ok ha ragione sì sì i tempi sono qualcosa troppo personale infatti vanno da ragazzino a ragazzino Valentino chiede il PDP o il pay no il PDP per DSA il pay nel caso della legge 104 insomma va benissimo visto i commenti alcuni commenti commentatemi se avete comunque anzi commentatemi per dirmi quali sono le difficoltà che voi stessi riscontrate metodo di studio dislessia questa è la cosa che mi importa più che altro sapere in questo frangente così che è da potervi rispondere anche successivamente bene vediamo un argomento relativo al troppo tempo per studiare a pagina 101 nel libro nostro figlio è dislessico identifico quanto tempo studiare il pomeriggio quindi fase 1 stabilite nel PDP che il ragazzino ha un ridotto carico di lavoro per casa altrimenti questo discorso del tempo cade nel nulla chiaramente avete una diagnosi chiaramente la presentate a scuola chiaramente gli insegnanti ci aiutano spero che sia così so che molto spesso questo non accade però spero che o so che non sono tutti non aiutanti anzi sono molti docenti che aiutano e quindi insomma cercate di farlo mettere nel PDP altra cosa ancora molto importante è la gestione efficace delle pause vediamo la tecnica del tempo la tecnica è questa 1 ci dobbiamo procurare un cronometro quindi anche dal cellulare uno di quelli che abbiamo all'orologio messo questo cronometro che sia ben visibile e ben leggibile da parte del bambino lo utilizziamo anche con l'opzione conto alla rovescia o comunque diciamo guarda ogni 10 minuti ci fermiamo per i bambini più piccoli ogni 20 minuti ogni 30 minuti ogni 40 minuti quindi a secondo dell'età del bambino iniziamo 10 minuti per i bambini più piccoli 20 minuti di pausa per i bambini già di quarta quinta elementare 20 minuti scuola media 30-40 minuti per la scuola superiore quanta pausa fare? la pausa va anche messa sempre a cronometro ho messo una tabella vi faccio vedere da un lato ci sono messi i minuti di attività quindi per ogni 10 minuti quindi ogni 10 minuti 4 minuti di pausa 20 minuti 8 minuti di pausa questi indicano dei tempi medi e minimi per quanto riguarda le pause nel libro lo trovate a pagina a pagina 103 del libro nostro figlio di Slessico mi stanno chiedendo per dove trovate il libro internet cliccate nostro figlio di Slessico edizioni Ericsson lo trovate sulla mia pagina è stato molto divulgato quindi lo troverete senza problemi bene 101 troppo tempo per studiare argomento 2 argomento scusate successivo distrazione durante i compiti attenzione labile basta poco per distrarsi a pagina a pagina sempre 102 proviamo la gestione del tempo per quanto riguarda il problema attentivo dei ragazzini ricordiamo che i bambini con disturbo specifico di apprendimento non hanno nella maggior parte dei casi a meno che non sia in comorbidità dei disturbi dell'attenzione ma hanno difficoltà a livello attentivo per gestire questa attenzione a livello attentivo la cosa importante è a gestire le pause come abbiamo detto prima perché se fosse collegato ora basta tornare un po' più indietro nel video ripeto per chi si volesse disconnettere o ripetere il video poi condividete il video prima di uscire così che se arriviamo a tante condivisioni possiamo lasciarlo online altrimenti vuol dire che questo video non vale nulla e lo cancelleremo insomma se non dovesse essere condiviso appunto perché evidentemente non consiglia nulla di positivo dicevamo i ragazzini hanno difficoltà attentive per gestire bene queste difficoltà attentive la cosa importante è quella di puntare soprattutto al al concetto di gestione delle pause per gestire bene queste pause la cosa importante è quella di gestire non solo le pause ma anche il tempo ho sistemato un po' il microfono speriamo che si senta meglio gestire anche anche il tempo di pausa quindi ad esempio facciamo 10 minuti 4 minuti di pausa proprio con il cronometro il bambino deve avere di fronte il tempo che sta impiegando per lo studio il suo impegno e il tempo dedicato alla pausa così che riusciamo a gestire molto meglio le pause i bambini si riposano molto con tempi brevi ma frequenti e migliorano il loro livello attentivo durante i compiti andarli a vessare e obbligare oltre un certo numero di tempo con pause che durano chissà quanto non giova a nessuno quindi un lavoro preciso per pause precise come abbiamo appunto detto poi argomenti affrontati con il metodo del genitore e non con il metodo del ragazzo dislessico spesso sono i ragazzi che stessi che mostrano la strada è venuto fuori un argomento topico un argomento centrale che è quello che riguarda come studio con mio figlio ovvero tuo genitore cosa fai? applichi un metodo perché pensi potrebbe essere quello più deve per mio figlio ho letto che si fa in questa maniera io facevo così non è detto che queste tre modalità siano quelle quelle corrette molto probabilmente perché ragazzino con dislessia fondamentalmente è il suo metodo quindi quello che proponi tu quello che tu leggi che comunque di un'altra persona attenzione è quello che viene consigliato da fare potrebbe anche non essere la cosa personalizzata al ragazzino per questa situazione in cui il tipo di metodo da adottare do due consigli il primo è quello di seguire i ragazzi molto spesso sono loro stessi che ci indicano un metodo se notate che loro sono molto brevi molto brevi in un tipo di argomentazione ma molto lunghi nel parlare di altro puntate su quell'altro se notate che sono molto bravi sull'aspetto visivo anziché su quello verbale puntate molto sulle immagini quindi cerchiamo di andare a sviluppare quelle che sono le caratteristiche di studio del singolo ragazzino insomma e facciamoci guidare da loro chiediamo a loro cosa ti viene meglio cosa ti viene bene fare impariamo non solo a dare indicazioni ma anche a chiedere le indicazioni sono loro la nostra miglior fonte di di sapere su questo punto di vista quindi nei commenti andatemi a scrivere quali consigli quali strategie quali supporti avete ricevuto dai vostri figli commentatemi con questo così lo vado a leggere quali consigli avete ricevuto dai vostri figli ok andando la seconda risposta che vorrei darvi si trova a pagina 104 del libro nostro figlio è dislessico di cui adesso ve ne parlo a pagina 104 troviamo questo capitolo che anche questo è stato molto condiviso ve lo faccio vedere sono i 5 passi per un metodo di studio ve lo leggo ora quali sono questi 5 passi per un metodo di studio ai ragazzini con dislessia ok fase 1 leggere il contenuto del testo al bambino per 1 o 2 volte così che l'ascolta legge e basta non sta a guardare il testo legge senza guardare il testo voi leggete il testo e lui l'ascolta e basta senza fare nient'altro senza guardare il testo 2 chiedere un breve riassunto orario di ciò che è stato ascoltato chiaramente chiediamo cose comprese mi bastano delle piccole frasi o parole per intenderci nel frattempo che me lo chiede vado anche vado anche a assegnare quali sono le parti che lui mi ha ripetuto realizzo la mappa concettuale terzo aspetto come realizzo la mappa concettuale vado sul sul testo che deve riassumere vado a segnare le parole chiare e poi le trasporto su un foglio le posso trasportare su un foglio bianco come questo insieme a ragazzino lo posso trasportare su un software ad esempio un software gratuito per le mappe si chiama cmaps davvero molto utile poi ci sono anche quelli a pagamento però io consiglio iniziare ad utilizzare uno di quelli gratuiti così che la reazione si truola bene eventualmente effettuate l'acquisto capita molto spesso che si facciano anche corsi per imparare a utilizzare i software va bene però state attenti perché non tutti i ragazzini poi li utilizzano lo dico per poter risparmiare qualcosina eventualmente poi quarto punto quando avete realizzato la mappa leggete ancora una volta il testo quindi tu genitore leggi e il bambino ascolta mentre guarda sulla mappa concettuale questo è importantissimo quinto aspetto quello di il bambino ripete seguendo sulla mappa quindi è tutto quanto fatto a fasi nel libro Sofì e Dislessico lo trovate appunto da pagina 104 a pagina 108 per intenderci poi ci sono tecniche per la disortografia ma ne parleremo in un prossimo live sulla disortografia bene il prossimo scusate il prossimo argomento il prossimo argomento è ok la voce se ne sta un po' andando spero di poter finire insomma il prossimo argomento è la conconoscenza dei processi di apprendimento ascolto studio mi spiego meglio quello che accade molto spesso è che noi pensiamo che come accade nei normolettori che ad esempio Carlo normolettore legge mentre legge migliora la lettura e comprende il testo con il nostro figlio Andrea Dislessico questo non lo possiamo fare dobbiamo attivare noi l'ascolto per la comprensione e lo facciamo esercitare con strumenti di potenziamento sulla lettura per fargli migliorare la lettura sull'aspetto legato al potenziamento dove ho sempre dedicato tanto spazio anche nel nel sito e sulla pagina provate l'indicazione a pagina 125 non ne parlerò in questo video ve la accenno solamente dove c'è vedete potenziare le abilità di sviluppo del bambino quindi come potenziare le abilità di lettura di ortografia di fotografia e calcolo vi vado a indicare i software da utilizzare questi sono alcuni ho gli esercizi da andare a fare come riconoscere le difficoltà quindi ho molto a cuore questa parte nel libro nostro figlio è dislessico bene il prossimo argomento riguarda i troppi compiti per casa come gestire i troppi compiti insomma prima di partire da questo argomento vi voglio sempre ricordare commentate con quali difficoltà voi avete nel metodo di studio per i vostri figli per me molto molto importante vi ricordo che se questo video vi sta piacendo ed è utile cliccate mi piace condividete questo video in basso ci hai messo il tasto per condividere potrebbe essere utile anche ad altri genitori il nostro intento è quello di arrivare a più persone possibili che possono trovare utili questo video altra cosa ancora se anche voi avete il libro nostro figlio è dislessico cliccate sull'emotion del cuoricino così che so che ci siamo prima di andare avanti su come gestire troppi compiti vorrei vedere se è arrivato nel frattempo qualche qualche commento sul video sul video perché qui non mi stanno arrivando i commenti qua però mi arrivano però se li accendo tutti e due rischio di avere un abbassamento della linea e della connessione per intenderci vediamo un po' qualche commento Sonia Agosti io l'aiutavo con il registratore ottimo metodo potete utilizzare anche l'MP3 il registratore è quello di leggere e poi il ragazzino se lo riascolta il mio legge fumetti e piccoli libri di racconti di fantasia e legge con gli occhi non c'è verso a casa e farlo leggere a voce alta vedi Sabrina l'importante è la comprensione se leggendo in questa maniera il ragazzino riesce ad avere una buona comprensione del testo allora va bene però assicurati che non sia una scusa ovviamente poi Elena è utile che i bambini ripetano ad alta voce o è solo sufficiente ripetere mentalmente Elena se dobbiamo ripetere per un testo bisogna ripetere ad alta voce perché poi all'insegnante non gli puoi dire ti ripeto mentalmente non possiamo valutarlo chiaramente l'importante è che nel momento in cui ripete ad alta voce abbia di fronte la mappa concettuale con i vari punti Sabrina i compiti per casa sono slavati dalla scuola e perciò gli stanno dando proprio il minimo sindacale Sabrina non guardiamo questa cosa come aspetto negativo può essere che questo minimo sindacale sia sufficiente e anche oltre per poter apprendere ricordiamoci che saper fare tutti quanti i compiti per casa o eseguirli non è la condizione sine qua non dell'apprendimento la condizione sine qua non dell'apprendimento è aver compreso un compito chiaramente vediamo altri altri commenti il mio non memorizza le tabelline solo alcune cose strane che siamo inventati un gioco stupido sul trovare la chiave per ottenere il risultato per esempio 8x2 16 il 2 diventa 20 meno il doppio questo me lo leggo bene dopo però ti ringrazio il commento se avete anche vostro strategia utilizzate postatele così le leggiamo tabelline e vermi non memorizza e non vuole leggere beh Nicoletta quello che abbiamo detto prima è un bambino con disturbo specifico di apprendimento neurodiversità caratteristica non vuole leggere difficoltà nella lettura è ovvio che non voglia leggere non memorizza i bambini con dislessia hanno difficoltà nella memoria lessicale quindi bisogna compensare non ce la prendiamo con loro non è colpa loro ovviamente non riescono a leggere non riescono a memorizzare è una difficoltà oggettiva per intenderci bene vado su altri commenti voi cliccate mi piace condividete il video se lo trovate utile e attivate anche le notifiche del video se non sbaglio vediamo altri commenti ok no non è una scusa perché una settimana vuole andare in edicola ah ok quindi tu hai un feedback perfetto continua così se tu hai Sabrina Fabri hai il feedback che lui voglia fare in questa maniera e sai che vuole andare in edicola a comprare quel tipo di libro e così via va benissimo la domanda è sono testi con immagini sei sicuro che non segua solamente le immagini e anche le parole eventualmente spingilo un po' sulle parole però se se lui è motivato a prendere quel tipo di testo allora sono d'accordo con te stai facendo un ottimo lavoro non perdere l'abilità di questo di questo ragazzino di tuo figlio immagino soprattutto cerca di scoprire qual è l'argomento della rivista o di quello di cui si parla evidentemente anche quello gli interessa molto sviluppa il suo elemento diciamo così ok stacco di nuovo qui la connessione ritorno dopo sui commenti bene ok eravamo arrivati ai troppi compiti per quanto riguarda i troppi compiti ne parlo a pagina 115 ora ne parlo pure con voi 115 ops troppi compiti 117 ok per quanto riguarda i troppi compiti per casa no non ne parlo a pagina 115 perché a pagina 115 parlo dei programmi utili per poter scrivere velocemente con la tastiera realmente dei troppi compiti per casa ne parlo dal punto di vista normativo sì prima nel senso che quando ho troppi compiti per casa evidentemente c'è una difficoltà nel piano didattico personalizzato quindi parliamo con gli insegnanti che oggettivamente non ci arriviamo a fare tutti quanti i compiti avendo un PDP è la prima cosa da fare inserire ridurre i compiti per casa poi 145 pagina 145 scarso rispetto PDP scarso continuo con la scuola vediamo un po' ok 145 anche se ho saltato un pezzo vediamo cosa dice allora attività da cui dispensare e strumenti con cui compensare per ogni DSA ora per attivare un buon PDP è molto importante quello di cui parla pagina 145 che è questo il principio che potremmo seguire è molto semplice ovvero l'attività da cui dispensiamo il soggetto andrà compensata da qualche altra questo cosa vuol dire nel frattempo vado sul prossimo argomento che è la memoria 117 ok cosa vuol dire questo nel momento in cui io lavoro con un ragazzino e devo stilare un piano per la scuola che abbia un continuum anche con casa la cosa importante è quella che se io dispenso ad esempio dalla lettura ad alta voce del brano visto per la prima volta letto per la prima volta lo compenso con l'ascolto del brano a parte insegnante genitore e così via se io poi ad esempio invece vado a dispensare il soggetto a ricordare a memoria determinate parole chiave perché lo compenso con la mappa concettuale quindi affinché ci sia un PDP rispettato è anche importante che venga fatto con dei criteri logici evitando i PDP con le rocette vi prego mettiamo mettiamo via a rogo i PDP con le rocette cerchiamo di fare dei PDP personalizzati quindi ti dispenso da questa cosa ti compenso con questa ti dispenso che non ricordi dalle parole chiave ti compenso l'uso della mappa concettuale ti dispenso dal da leggere ad alta voce il brano detto per la prima volta ti compenso da leggere il brano solamente dopo che l'hai ascoltato ti vado a dispensare dai troppi compiti per casa ti compenso assegnandoti esercizi molto più specifici o attività di potenziamento a casa che tu esegui sulla base delle indicazioni date dall'operatore e così via per intenderci ricordare ciò che si studia passiamo a questo aspetto a pagina 117 il libro non soffria dislessico do tre modi per ricordare uno il metodo dei luoghi insomma lo leggo direttamente si tratta di associare gli argomenti che deve ricordare ai vari elementi che conoscete di questa strada ad esempio potreste passare di fronte all'ordine ad un asilo nido a un casello a un santuario a un ponte ora partirei da qualsiasi tema di studio ad esempio i babilonesi e possiamo individuare quattro argomenti come il luogo geotrafico cosa facciamo noi prendiamo un foglio di carta bianco andiamo a segnare ad esempio quattro punti i quattro punti sono un percorso che il bambino conosce che può essere un gioco può essere il percorso da casa fino a scuola da casa dalla nonna e così via ad ogni singolo punto gli associamo sia il punto che il bambino già ricorda quindi ad esempio quattro fasi di un gioco e così via li associamo ad un punto che invece il ragazzino che il ragazzino fondamentalmente deve apprendere per intenderci seconda strategia a pagina 118 del libro ripetere intervalli con l'uso degli strumenti ripetere intervalli è una pratica che si rivela estremamente utile il grande problema dei bambini con dislessi di sé infatti è proprio che dopo aver ripetuto un argomento se lo si ripete anche dopo qualche ora o qualche giorno sembra che si abbiano dimenticato tutto quindi molto più utile è quello di ripetere piccoli argomenti scanditi nel tempo anziché di ripetere una sola volta tutto l'argomento ok terzo suggerimento pagina 119 e poi c'è come studiare le lingue straniere ma questa parte in cui la saltiamo collegare appunti conosciuti è molto importante chiedere ok questa cosa di cui stiamo parlando cosa ti ricorda che argomento ti svela di cosa che tu già conosci si collega molto meglio a livello mentale su cose che io conosco per intenderci bene andiamo ad altri argomenti molto difficile il confine fra essere mamma e essere insegnante di casa dobbiamo imparare un po' a gestirla gestirla come che quando cominciamo a essere insegnante di casa ci mettiamo la versione insegnante e lì non siamo più mamma insomma per il resto poi facciamo chiaramente la mamma e riscopriamo il bello di stare con i nostri figli non guardiamo le difficoltà guardiamo anche le doti dei ragazzini qualche indicazione prima di andare avanti uno tutte queste indicazioni le trovate anche nel sito gelucolopresti.net cliccate mi piace se il video vi lo state trovando utile condividetelo se pensate possa essere utile anche per altri per altri genitori cliccate sull'emotion del curicino se anche voi avete il libro il suo figlio è dislessico commentatemi con le difficoltà che voi trovate nel metodo di studio con i vostri figli con dislessia ok andiamo avanti guardate le doti i vostri figli possono avere o forti doti linguistiche quindi parlano molto bene sviluppiamo queste possono avere forti doti visive anche oppure doti del disegno sviluppiamo le doti visive facendo delle mappe a livello di immagini se invece hanno doti a livello che parlano molto bene facciamo delle mappe non solo a livello di immagini ma anche con delle parole belle e grandi incisive per intenderci così che da seguire da seguire un discorso è molto importante condividere le difficoltà con gli altri genitori nel senso che questa pagina cioè Luca Lopresti è una pagina in cui molti genitori identificano le proprie difficoltà andate a commentare quello che dicono gli altri genitori leggete i commenti degli altri genitori condividere una difficoltà con altri genitori diminuisce la percezione delle difficoltà che abbiamo con i nostri figli cioè sapere che anche un genitore ha che fra la fine è così la difficoltà di far iniziare i compiti per casa di far star concentrato il proprio figlio di far di mantenere la calma quando fa i compiti sapere che anche questi altri genitori hanno queste difficoltà so che vi può aiutare molto e oggettivamente è in questa maniera per intenderci molto importante è sapere anche la fiducia che diamo ai nostri figli mi spiego meglio nel frattempo vado a prendere una parte a me molto cara sul sul libro ok è molto importante che voi abbiate fiducia nei confronti ai vostri figli è molto importante che voi abbiate fiducia che i ragazzini che i vostri figli ce la possono fare utilizzando qualsiasi metodo differente da quello che già utilizziamo ma ce la possono fare abbiamo difficoltà nella lettura bene dispensiamo potenziamo nel frattempo puntiamo sui contenuti didattici di quelli di cui affrontiamo utilizziamo un metodo diverso ma sappiamo che ce la possiamo fare soprattutto abbiate voi stessi dentro di voi fiducia che i vostri figli oggettivamente ce la possano fare nel frattempo mi collego per vedere qualche altro commento e poi voglio dirvi una cosa importantissima per voi che siete arrivati anche alla fine del video chiaramente nella parte finale di questa di questa diretta ok vediamo un po' leggo qualche commento ancora c'ho un argomento da trattare vado ad aggiornare il tutto vedete nei momenti in cui voi mi commentate con le difficoltà riesco meglio a sotturare meglio il piano il piano di lavoro diciamo così vediamo un po' quali sono i pdp senza rocette chiede Delia sono quelli fondamentalmente anche del miur per intenderci oppure l'ho fatto dei video sui pdp che noi abbiamo bene andiamo avanti voglio parlarvi di una cosa prima di dirvi l'aspetto finale ovvero voglio leggervi una storia che trovate a pagina 177 del libro Nussofile e dislessico ascoltatemi bene ok ok vi leggo questa storia quindi rilassatevi e ascoltate questa storia lui è un bambino di nove anni con dislessia in compromissione fonologica dunque legge sillabando e non comprende nulla di quanto letto ha la madre che insegna in una regione diversa dalla sua e la sente solo al telefono per qualche minuto la sera il padre mi racconta stupito è incredibile la sera si addormenta provando a leggere un libro ma non sa leggere e il libro è senza immagini parlo da solo con il bambino e gli chiedo un po' scherzando ma non ti annoi a leggere un libro senza immagini perché non ti guardi un film un cartone animato oppure giochi a un videogame perché provi a leggere con così tanta fatica proprio quel libro senza neppure un'immagine e lui con fervido orgoglio e occhi lucidi mi risponde perentorio dopo una breve pausa questo libro me l'ha comprato mia mamma quando sono andato a trovarlo a casa sua e me lo leggeva tutte le sere quando pioveva e abbracciati stavamo sotto le coperte bene direi che questa storia ci insegna che i nostri figli si meritano il meglio dell'aiuto che possiamo dargli il meglio dell'aiuto che possiamo dargli nel metodo di studio riguarda il puntare sui contenuti quindi il consiglio finale che posso darvi è quello di puntate sui contenuti didattici il voto non è impegno l'impegno va gratificato le modalità le modalità che abbiamo esposto in questo video educative di metodo di studio tecniche spero che vi possano essere utili spero che possano essere utili anche ad altri genitori quindi vi invito a condividere questo video vi invito a commentare questo video anche dopo la diretta sarà finita sulle difficoltà di metodo di studio che avete con i vostri figli quindi vi ringrazio per essere stati insomma finora insomma fino alla fine in questa in questa diretta spero di non avervi troppo annoiato di avervi dato gli sumenti utili torno a ripetere di nuovo e non lo dico più nel sito gelogalorresti.net trovate tutte queste indicazioni se avete provato utile questo video condividetelo pure e ci vediamo alla prossima diretta che sarà fatta sulla base delle difficoltà del metodo di studio che mi andrete a segnare qui nei commenti grazie e alla prossima